Il Tribunale di Chiavari era un tribunale che costato 14 milioni di euro e non è mai entrato in funzione. Nella stesso parere della Commissione di Giustizia del Senato si indicava la necessità di tenerlo aperto già all'epoca perché era una struttura nuova, perché era vicino all'istituto penitenziario e quindi anche in termini di traduzione dei detenuti vi sarebbero stati dei risparmi. Sciaguratamente fu chiuso. Non posso promettere la riapertura sic che simpliciter, ma sicuramente questo Governo vuole rivedere l'infausta e sciagurata revisione della geografia giudiziaria, crede nel valore della giustizia di prossimità e quindi se vi è un progetto condiviso di tutti gli enti territoriali che disegnano una competenza su un'area socio-economica omogenea, certamente lo prenderemo in grande valutazione perché è nostra intenzione riaprire alcuni tribunali e valorizzare la giustizia di prossimità. Questo richiede un progetto prima di tutto del territorio, per esempio in Veneto sull'ex tribunale di Bassano sono già fatti molto avanti con il cosiddetto tribunale della Pedemontana, credo che Chiavari abbia un asset straordinario infrastrutturale che è un edificio nuovo, molto nuovo, per 14 milioni di euro, oggi sottoutilizzato. Quanto tempo c'è per lavorarci? Guardi, ci sono progetti più veloci, tipo le mille strassunzioni della Polizia Penitenziaria che mi onoro di aver messo in campo e ci sono progetti che se anche valessero l'intero mandato sarebbero comunque opportuni. Io sono qui per raccontare a questo territorio che se il territorio, i vari sindaci, i tribunali confinanti riescono a tutti insieme, coralmente, a presentarmi il progetto del Tribunale del Tiguglio probabilmente delle possibilità anche in virtù di questa infrastruttura ci sono perché avete partiti avanti rispetto ad altri alla luce dell'esistenza di questa infrastruttura che non è mai stata utilizzata. Il sottosegretario ha confermato quello che lei ci aveva già riferito, quindi la marcia è quella giusta per partire? Ci sono le basi, non abbiamo nient'altro che le basi, abbiamo un via libera. È stato chiarissimo Del Masto, dice a Bassano hanno fatto un progetto, lo hanno condiviso tutti, hanno esteso la circoscrizione del Tribunale che diventerà quello della Pede Montana Veneta e noi gli diremo di sì. Chiavari, vuoi fare la stessa cosa? Mi presenti un progetto altrettanto buono, condiviso tra il territorio e le istituzioni? Mi allarghi la circoscrizione? Chiaramente non posso dire di sì a Bassano e di no a Chiavari. La strada è tracciata, ora sta noi all'amministrazione e a tutti i soggetti impegnati vedere se riusciamo a portare a casa un bel progetto o sarà un nulla di fatto. Il sottosegretario Del Mastro ha comunque ribadito più volte che si parte dall'avere la location. Noi sappiamo se qui dentro può tornare il Tribunale? Non lo sappiamo. Credo che la neocostituita, anzi la costituenda commissione speciale dovrà lavorare su questi aspetti. Andare a verificare se e dove ci sono i posti, trovato il contenitore, si può riempire di contenuti. Cioè andare a trattare con i territori, con le istituzioni, con i presidenti di tribunali limitrofi e andare a costruire quello che Bassano ha già fatto. Ma si parte veramente dal trovare prima il contenitore. Non sarà facile, ma bisogna provarci. Grazie a tutti.